Ciao Miao! Ci sono qui con me, Ciro, che per oggi si chiamerà Aldo Biondo, poi c'è Beyond Ordinary Boarders, che sarebbe Bob... Biondo Ordinary Boarders! Aldo Biondo Ordinary Boarders, un casino stasera! E poi c'è Bitterin, che in realtà è Purin. Ciao Miao! Bob ha detto che prima stava cercando dei trucchetti, io li voglio sapere. No, stavo semplicemente cercando come funziona sto gioco dopo 6-7 partite in cui siamo andati completamente a caso. Invece Purin non sa nulla di questo gioco, no? No! Meglio! Ah, ho visto i gameplay, so come si capisce quale tipo di spettro è. Ok, ci insegniamo noi, saremo i tuoi senpai. Allora ragazzi, siete pronti a una fantastica serata piena di sorprese? No, ti prego! Ridgeview Roadhouse, una casa a due piani con quattro camere da letto e semi-interrato. Chiedo se affittano perché sto cercando. Però si chiama Roadhouse! Esatto, è vero! Buono! Stick and cheese per tutti. Immaginate che twist se adesso in chat dicono che non sentono niente perché siamo tutti amici immaginari di essere ed è così che lo scopre. Dov'è Ciro? No, questo è Ciro. Io vi vedo! Vedo due bianchi! Quindi non vedo Bob, se vedo due bianchi. C'è arrivato tuo marito! Ma che paura! Fate la Naruto run! Permesso! Ti riporterò al villaggio, Ciro, andiamo! Sanità mentale qua dice 100%, ma mi sa che siamo molto sotto. Partiamo dagli obiettivi opzionali. Partiamo dai tasti! Come si prendono gli oggetti? C'è l'oggetto chitarra che gli suoniamo qualcosa. Ma mi avete lasciato solo la videocamera, la fotocamera. Eh, tu sei la youtuber, forza! Le WP comunque messo così, tipo lo avvicino alla bocca tipo di Andrea, sembra note to self. Signa qua le tue memo vocali. Ma Bob e Andrea stanno limonando, cioè... Vabbè, andiamo qua. Ah, è come essere sott'acqua. No, no, le luci accese, chi è stato? Io. Lei è accesa tu la bajur? Sì. Ma perché accendete tutte le luci? Non vedo un c***o. Perché mi fa sentire più al sicuro. Esatto. Non il WP acceso sia mai che ci facciamo una chiacchierata con... Oddio, 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 oddio! C'è pure in vieni, 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 con il luci fisso, nella cucina. Giù. E non so correre! Ah, ah, suona, suona. Buon Natale. Qua, in salotto, venite. Urca! Via, Satana! E qua, e qua, e qua, ragazzi, e qua, e qua. Thomas Thompson! Oh no! Cos'era il microonde? Ah, sì, 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 ragazzi. Hai fame? Hai fame? Se magna, Thomas, se magna. Hai fame? Hai cagato? Buco di chiave! Io mi entrerei per vedere se abbiamo spingato la mia vita. Era già pronto. Ragazzi, vai, vai. Non è sopra, non è sopra, non è sopra. Non è sopra vedere la videocamera. È buono, eh? Hai mangiato! Hai mangiato! Ragazzi, è qua, è qua, è qua davanti a me, è in salotto. Hai mangiato! Ah, ho visto un'ombra! Era qui, nell'angolo. Oppure mi sta glitchando lo sfondo? Qui c'è del fumo! Qui c'è del fumo! Vuol dire che la temperatura è bassa! Uh, ottimo! Ma se Bob andasse ad accendere le luci nel seminterrato, dove sicuramente ci sarà... Oddio! Oddio, 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 oddio. Ma vabbè! È lì, è lì, è di fianco. Mitchell Obama. Vabbè, va bene. Abbiamo capito che per questa casa non c'è più niente che possiamo fare. Dai, andiamo! Scusate, ma io vado a vedere quali sono i comandi. Oppure, azione primaria tastadestro del mouse. Oddio, 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 oddio. Raga sono rimasta chiusa fuori Non aprite tutti Non aprite tutti una volta Sono rimasta chiusa fuori ma che è successo Sicuramente abbiamo sbloccato l'obiettivo Ha respirato nell'ano praticamente Qui c'è un osso Ah prendilo prendilo Si è accesa la candela L'ho accesa io Si è accesa la candela Siamo tutti accovacciati di fianco La candela al fuoco con le ossa Sembra i primitivi No no La televisione La tv la tv Devi tenerla in mano Tienela in mano io scengo Si è accesa la televisione Siamo tutti inchinati Sono proprio la divinità della televisione Assolutamente la stessa energia di Topolino Che dice ci stanno tracciando Stacca stacca Lasciatemi solo voglio morire Si è sbloccato l'obiettivo rileva la presenza di un fantasma come una candela Potete morirla Però non c'è ancora Evita che il fantasma inizi la caccia Utilizzando un crocifisso Cioè il crocifisso non si è servito Siamo tutti e tre spalla spalla Tu Esker ti stai perdendo questo momento Chiamiamolo E io provo a bloccarlo col crocifisso Thomas Thompson Thomas Thompson Emma Watson No scusate eh Venitemi un attimo dietro Che io da solo non ci sto qua Abbiamo il potere di Gesù Adesso qua per scrivere Tommy scrivici qualcosa Scrivici quando arrivi Un bacio ai bimbi Andiamo Qualcuno venga su con me gentilmente va Arrivo Mi si appena aspetta la candela Te la accendo aspetta Grazie Fatto fatto Sono salito da solo Ah hai preso la mia camera Eh sì è inutile che la lasciamo sopra È fatto bene bravo Thomas Thompson Ragazzi Chi è morto? Ragazzi È morto Ciro? No io sono qui Sono con te Esther Ti vediamo assolutamente Ci sto arrivando Bob Eccolo Io sto facendo sciacallaggio Mi sto fregando di oggetti di Andrea Chi è? Dio di lì? Tra l'altro non c'è ancora spento le luci Minchio Eh no? Mi la faccio No la bajulla Le ha staccate Sì l'ha spente proprio Andiamo giù a riaccendere le luci Che dite? Dai Però devo tenerti insieme Sì ormai dobbiamo muoverci per forza Tutti insieme Vada retro Tirlone No 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 Beccato No mi ha preso Mi ha preso No Ciro Ce l'ho davanti Ce l'ho davanti Oddio Non ne approfitto per mangiare Eccola puri marinata Esther è come ai vecchi tempi Siete rimasti solo dietro Prenderò la torcia di Ciro Ma dove sei Bob? Oddio mi flickerà tutto Si è chiuso tutto Addio Devi andare a nasconderti se riesci Beh Bob sei rimasto Oddio eccolo È davanti alla porta il fantasma Eh ma ha preso Cioè Bob era quello che doveva morire per primo Perché aveva la salute mentale bassissima Quindi come Ho affinato le mie tecniche E allora C'è il concifisso Il taccino Infatti ora volevo andare a prendere quello Vai vai ti proteggo io Vabbè Thomas siamo io e te Vieni fuori Chiudiamola come l'abbiamo iniziata Oddio 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 È là è là 4 4 4 E qui E qui davanti a me Scappa scappa Per contrastarlo col crocifisso A un certo punto il mio crocifisso Si è lanciato via nell'iperspazio E sono morta E ho appena visto che a Bob è successa la stessa cosa Pensavo l'avesse lanciato lui nel panico Dove volete andare? Dove vuoi Scelto scelto Questa piacerà un casino a Ciro secondo me Eh Lord Wild West stavolta Sì Ha cambiato Questo posto è bellissimo E assolutamente disimpressivo Non so già dove siete Va dove ti ho portato va In coloniale Ragazzi ragazzi no fermate tutto Fermate tutto Abbiamo trovato la stanza Oh perfetto Emi andiamo di sopra Vieni Temperatura è la temperatura più bassa Che ho registrato finora ragazzi È sicuramente stato qui Non vedo niente 9 Andiamo vieni Ci sono io Guarda che rimani da sola È peggio Ecco di Vengo con la mia tazza gialla Ti piace? Non la vedo Ok non la vedo Io gli porto un dono Ditemi voi se secondo voi può apprezzare Siamo un po' scemi però Rinchiuderci nella stanza Ragazzi due gradi Due gradi Andiamo Io ho il sale Faccio molte chi la sale il limone Chi ha un limone? Chiediamo al fantasma Hai un limone? Non riesco a appoggiarlo 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 12 13 14 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 19 19 22 23 24 20 21 22 22 23 23 mi sembra che avessi raggiunto un 5 fotografo a culo di fotografo il fotografo sento che 344 posto rip ester che uso il mf il modo fatto andiamo di sopra mf viene in questo nuovo blog oggi sono in cosplay di un fantasma eccolo qui l'attività eccolo qui vediamo se riusciamo a captare il nostro ecco giro correte non l'ho preso e lui che ha preso me torna indietro no qual è la cucina qui qui la tua vai dritto 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 lì dritto io vorrei solo dire che la sanità mentale di ciro e 0 come quella vera ai bob ti vedo e quindi chiudo e quindi fatto le foto e il mio momento di coraggio avuto senso forse sì forse no magari sono quelle che ho fatto dopo io chi lo sa ragazzi devo scappare da allora vi saluto grazie ciao ciao a tutti buonanotte bene a noi non è che siamo per sbaglio entrate in questo in questa partita ma bob non c'è ma bob dove cazzo finisce lo sta facendo apposta me lo sento eccoci ciao ma chi io no è il fantasma eh ma dov'è un po' ora abbiamo due fantasmi non ho visto il nome del fantasma ora che ci penso e bob canterò una canzone per rilassarmi take me to your xbox and play for night today i can be your for night player sopra non c'è niente help cos'è che si... che si... eh? eh? vieni qua ester quando siete uscite dal camion infatti... Bob si era nascosto qui nell'angolo che davvero? ero qua non so ad un certo punto io ho trovato la torcia di bob sul tavolo e la sua mano che permeava del muro quindi sono andata davanti a lui ho annuito e me ne sono andata ho apprezzato la complicità spegni la lampada se hai aperto lo sportello ha scritto le cose sul libro libro or die ciao ah subito signora Martinez come vuole lei voi ditemi cosa vedete dalla cam ah la mia cosa preferita t'andrea vieni con me che hai il spirit box e vediamo se ci dice qualcosa sei qui tu vedi qualcosa ester attendi la luce se sei qui cazzo l'attività totale si sta alzando a 10 che cazzo sta succedendo ah si a 5 siamo a lume di candela oddio letteralmente romantico ah è caduta ragazzi eh eh ho visto o si è spenta o se si è spenta e questa si è spenta sto stufo di mettere in ordine dove fai casino eh io te lo dico CAR MARTINEZ guarda ma guarda te che bastardo ha spento di nuovo la candela ma- ma guarda che sei proprio bastardo ma guarda che di te vai accapatevi le in mano quelle che accendete chi è? chi è? oddio 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 oddiomän oddio 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 cosa ve bene a chi ha preso esterno abbiamo tre foto a disposizione ma questa tecnica può funzionare ok se riesco a fare sta cosa e poi scegli ho preso l'ho fotografato cielo proprio bello in fotocamera bello paciarone va che bello che mi sentite ora grazie arrivederci abbiamo concluso la nostra giornata investigativa quindi sta per partire un'altra un'altra man un'altra manche non abbiamo proprio un cavolo come materiale se giro hai portato la roba a questa è un'altra casa però per me la paura non fa più parte di me ma sento solo dolore cosa si ora suona aspettate ma suona qui sulla scala niente il posto più freddo resta qui rada nel corridoio ha fricherato qualcosa suona nel nella scarpiera però 5 4 3 si la cassettiera dice 4 stalla chi ha spento ma qua invece niente c'è tutto sulla scarpiera si ma che cazzo ti piacciono i piedi oddio ho visto una sfera di luce può essere non è che era la scia del fumo può essere ma si sta muovendo il cassetto o sei stato tu no no scusa l'ho fatto io mi sa che i fantasmi non aprono i cassetti da quello che ho capito no no se c'è una cosa che i fantasmi non fanno è proprio non aprire i cassetti io ne ho visti i fantasmi e proprio c'è una sola cosa che non fanno ed è aprire i cassetti sei serio? si 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 ma come nella vita vera ho avuto parecchie esperienze ma se c'è una cosa che i fantasmi proprio per correttezza non fanno aprire i cassetti 5 no fammi entrare fammi entrare sento 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 qualcosa si l'ho sentito anch'io sussurrare lascia la porta chiusa che così non ci vede vabbè non ci serviva andiamo ah è sotto le scale oddio che è brutto oddio mio santo che brutto dio santo mio no no ma dov'è? ah oddio ma che cazzo è? oddio ma è tipo di garage oddio sta trascinando per terra che schifo cosa? che schifo sto coso eh si Bob ma sei vivo o no? no sei chiuso in casa in camera Bob sta venendo da ok ma se n'è andato? mi sa no sta tornando no 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 Bob aspetta un fermo lì ma che direi che non must protect Bob sto facendo il trappolone prova a chiamarlo presa presa te strunza il problema è che io vorrei arrivare fino alla videocamera ma è la Bob ci prego ma mi stiamo vedendo il furgone che siamo i fantasmi io la sto guardando dalla finestra dov'è? è nella cassettiera sono morta con un braccio se dovessi dare un voto alla mia posa di morte direi 8 io ho detto Benji hai messo Benji? ma sì ma sì dai mettiamo Benji vediamo era un mare ma allora c'è qualcosa che non vale le informazioni vabbè dai 10 dollari per le fotografie eh perché sono delle belle fotografie qua ci sono le foto venite a vederle madonna che cura questa e poi questo è quello che ho fatto dopo questo è bellissimo sembra io appena sveglia lo volevo chiudere ma mi state distraendo con questa pila di vince chi lo fa cadere in piedi ci sono riuscita nessuno l'ha visto quindi non è successo ma non è giusto grazie ancora per essere stati qui con me oggi sia Puring che Bobo sia a voi tutti qui in chat grazie mille ciao amici ciao a tutti buonanotte fate i buoni buonanotte fate i bravi buonanotte ciao 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 ciao